La marmotta delle Alpi è un roditore della famiglia degli Sciuridi. Vive a delle altitudini comprese fra i 1500 e i 3000 metri. Solitamente si insedia nei pascoli radi e pietraie al limite superiore della foresta, dove gli alberi si diradano e diminuiscono di grandezza. Oltre che nelle Alpi è presente nei Carpazzi, nell'Appennino, nei Monti Tatra e dal 1948 è stata reintrodotta con successo nei Pirenei. È un animale dal corpo tozzo, che raggiunge una lunghezza di 70 cm e un peso di circa 5 kg. Le zampe sono corte. Quelle anteriori sono munite di forti e robuste unghie, che servono per lo scavo delle tane. La coda, lunga circa 15 cm, è folta e costituisce un importante mezzo di comunicazione, in relazione alla posizione che assume, influisce nei rapporti sociali fra i vari membri del gruppo. La posizione degli occhi consente di avere un largo campo visivo, mentre le sue orecchie sono quasi completamente nascoste nella pelliccia. Molto evidenti per il loro notevole sviluppo sono i denti incisivi. Sono privi di radice e pertanto a crescita continua. L'animale li consuma giornalmente durante la masticazione del cibo. Il colore della pelliccia va dal bruno chiaro al marrone, con notevoli possibilità di variazioni. I piccoli nati nello stesso anno sono facilmente riconoscibili, oltre che per le loro dimensioni ridotte, anche per il colore grigio uniforme. La marmotta vive in tane scavate direttamente nel terreno. Esse hanno diverse possibilità di utilizzo. Fra queste si possono distinguere le tane di fuga, che consistono in semplici cavità a fondo cieco e sono di solito situate sotto un masso. E poi vi sono le tane principali, costituite da più aperture che conducono in gallerie profonde anche una decina di metri. L'animale diurno esce dalla propria tana al mattino, per rientrarvi solo nelle ore più calde o al crepuscolo. Il fischio è il tipico segnale di allarme della specie e serve inoltre a mantenere un collegamento tra i componenti del gruppo. La sua alimentazione è costituita essenzialmente da erbe e radici, che le consentono di accumulare il grasso che verrà consumato durante il letargo invernale. Non essendo un ruminante, deve selezionare, in funzione della digeribilità, il tipo di alimento. Questa è la ragione per cui sono privilegiate le parti vegetali più tenere, e in particolare i fiori. Questa specie trascorre l'intera stagione invernale, che può andare da ottobre ad aprile, nello stato di letargo. Durante questo periodo, il metabolismo dell'animale subisce un notevole rallentamento. Gli atti respiratori si abbassano a 2-3 al minuto, la temperatura scende da 38 gradi a soli 4 gradi centigradi, e le pulsazioni cardiache passano a 4-5 al minuto. che non si muovono, lo faccio senza l'animale spiegare il grasso e la temperatura scende da 38 gradi a soli 5 l'intera stagione, e le pulsazioni di attività di attività da 40 gradi 15 gradi a soli 5 gradi a soli 5 gradi a soli 4 gradi a soli 2 gradi a soli 4 gradi a soli 5 gradi a soli 5 gradi e a soli 4 gradi a soli 5 gradi. Grazie a tutti.